Grande sforzo profuso in questo periodo dai militari della compagnia Carabinieri di Fano, anche mediante servizi straordinari di controllo del territorio, organizzati in ambito provinciale ed eseguiti con l'ausilio del nucleo cinofili di Pesaro. L'obiettivo è quello di contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le condotte di guida, maggiormente pericolose, con un'attenzione particolare ai luoghi interessati dalla movida giovanile. I carabinieri della stazione di terre roverische hanno rintracciato due persone del posto, entrambi destinatari di un ordine di carcerazione, per furto e detenzione di stupefacenti commessi nel centro urbano. Un uomo è stato portato nel carcere di Pesaro e l'altro nel proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Inoltre, i militari hanno sequestrato un'auto condotta da una donna priva di patente perché mai conseguita, combinandole la sanzione di 5.100 euro. Invece, i carabinieri delle stazioni di Fano, Marotta e San Lorenzo in campo hanno segnalato alla prefettura otto giovanissimi tra i 16 e i 26 anni per uso personale di droga. I ragazzi, che si trovavano in prossimità di locali notturni e altri luoghi di aggregazione, sono stati trovati in possesso di singole dosi di hashish. Sempre i carabinieri della stazione di Marotta hanno ritirato una patente di guida ad un giovane risultato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua autovettura. Infine, i militari di Colli al Metauro hanno rintracciato un uomo del posto condannato agli arresti domiciliari che deve scontare la pena di un anno e due mesi per i reati di danneggiamento seguito da un incendio e atti persecutori. I controlli verranno intensificati anche nel mese di agosto, in concomitanza con l'arrivo di numerosi turisti nelle principali località di villeggiatura della provincia.